Stranberg è forse nervoso per quanto è successo poco fa, ora va a protestare, non sappiamo se sia stato l'arbitro o l'assistente di Porta a concedere il calcio di rigore, fatto sta che all'ottantottesimo, anzi all'ottantanovesimo, ormai arriva il calcio di rigore in favore della Norvegia, li avete trattenuti a Bando Rigetti? Non lo so. Facciamo da rivedere, magari con più calma, fatto sta che c'è questo calcio di rigore che viene concesso in favore della Norvegia, Stranberg contro Barti, i fischi del pubblico dello stadio Blunting di Tel Aviv che evidentemente fa il tipo per l'Italia, siamo proprio nelle fasi confusive di questa sfida, Stranberg contro Barti. E' un'azione da rivedere perché la stessa posizione diciamo quasi, a Ligiterra è stato nullato un gol, quindi ci può stare. Grazie. Grazie. Grazie.